Se stai utilizzando il bullet journal, non commettere questi errori. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Se mi avete trovata grazie a questo video, mi presento. Io sono Francesca e sul canale porto contenuti dedicati a bullet journal, organizzazione e produttività. Oggi parleremo di un tema che sicuramente interessa chi utilizza il bullet journal, specialmente se siete alle prime armi, ma anche se utilizzate questo metodo da un po' di tempo. Parleremo degli errori più comuni che vedo fare con il bullet journal e come evitarli. Alcuni di questi errori sono veramente facili da commettere e potrebbero rovinare l'efficacia di questo sistema. Quindi prendete il vostro bullet journal, una penna e cominciamo. Il primo errore è creare layout o pagine troppo complesse. Capisco perfettamente la voglia di rendere il bullet journal esteticamente super bello, ma ricordiamoci che la funzionalità è più importante dell'estetica. Un layout, una pagina, una visione che richiede troppo tempo rischia di farvi perdere la motivazione. E se non riuscite a tenerlo aggiornato perché risulta troppo complicato, alla lunga smetterete di usarlo. Quindi cercate di trovare un equilibrio, un layout semplice e chiaro, delle pagine semplici e chiare funzionano meglio a lungo termine. Un altro errore è quello di complicare troppo la pianificazione. Non è necessario inserire ogni sezione possibile e immaginabile nel bullet journal, soprattutto se poi non riuscite a seguirle tutte. Quindi piuttosto che avere 5 habit tracker diversi, che poi non riuscite a tenere aggiornati, provate a selezionare solo quelli che sono veramente importanti per voi. Un altro errore è quello di non lasciare abbastanza spazio per la flessibilità. A volte riempiamo le pagine al massimo, ma poi quando le cose non vanno secondo i piani, ci ritroviamo bloccati. È importante lasciare qualche spazio vuoto o pagine bianche per aggiustamenti dell'ultimo minuto. In questo modo potrete adattare il bullet journal alle esigenze che cambiano durante il mese, la settimana o anche durante il giorno. Concentrarsi troppo sull'estetica è un errore molto comune, soprattutto se vedete bullet journal bellissimi sui social. Non fraintendetemi, è importante che sia anche bello. Ci sono delle persone che tengono veramente molto all'estetica del bullet journal, ma non dovreste mai commettere l'errore di sacrificare la funzionalità, quindi mettere a rischio la funzionalità del bullet journal solo per l'estetica. L'importante è che funzioni per voi, quindi se un layout semplice, delle pagine semplici funzionano meglio per voi, non sentitevi obbligati a renderlo un'opera d'arte, non sentitevi obbligati a renderlo troppo artistico. Quante volte avete iniziato a tenere traccia di 5 cose diverse solo per abbandonarle dopo pochi giorni? Questo è un errore molto comune. È naturale voler monitorare tutto, voler tenere traccia di tutto, ma in realtà è meglio iniziare con pochi elementi chiave e vedere come vanno. Dopo un po' di pratica potrete aggiungere altri tracker, ma iniziate con poco per evitare di sentirvi sopraffatti. Un altro errore è quello di non fare una revisione periodica. Pianificare è fantastico, ma se non dedicate del tempo a rivedere e riadattare il vostro bullet journal, rischiate di perdere di vista i vostri obiettivi. Il mio consiglio è quello di fare una revisione settimanale o anche mensile, Quindi prendetevi qualche minuto per vedere cosa ha funzionato e cosa invece andrebbe cambiato. Non personalizzare il bullet journal è un errore che vedo molto spesso. Molte persone infatti copiano layout, pagine, template che vedono sui social, ma ogni persona ha bisogni ed esigenze diverse. Il bullet journal deve essere un sistema che si adatta a voi, non il contrario. E non abbiate paura di sperimentare. Scoprite cosa funziona meglio per voi e adattate il sistema alle vostre necessità. Spesso non annotiamo quello che impariamo dal nostro bullet journal, dal nostro stesso bullet journal. Magari abbiamo una pagina che non usiamo mai, ma non ci fermiamo a riflettere sul perché. Quindi anziché andare avanti come se niente fosse, prendetevi il tempo di capire perché quella pagina non l'avete usata, perché non l'avete portata avanti. Annotate, scrivete sul bullet journal cosa ha funzionato e cosa no. Questo vi permetterà di migliorare nel corso del tempo. E infine, legato a questo, mantenere sul bullet journal delle pagine inutilizzate per troppo tempo è un errore che renderà il vostro bullet journal meno funzionale. Alcuni riempiono il bullet journal di pagine che non utilizzano mai, oppure lasciano pagine vuote senza un piano preciso. L'ho fatto anche io, ammetto questo errore, ho un sacco di pagine vuote sul bullet journal, ma sto pensando a come poterle riempire, a cosa poterci inserire. Quindi è meglio avere solo sezioni, solo pagine che utilizzate veramente e mantenere il resto più semplice e chiaro. Così non appesantite il vostro bullet journal. Spero che questi consigli vi siano stati utili per migliorare il vostro bullet journal, il vostro percorso con il bullet journal. Ricordate che il bullet journal è un sistema personalizzabile e flessibile che deve migliorare la vostra vita, non complicarla. Se questi errori vi suonano familiari, non preoccupatevi, siamo in tanti ad averli fatti io stessa. Quindi scrivetemi nei commenti se avete altri suggerimenti o esperienze da condividere. Per rispondere a tutte le domande sul bullet journal e per capire come iniziare ad utilizzare il metodo bullet journal, ho creato un corso, bullet journal per principianti. Dopo anni di esperienza in questo campo, mi sono lanciata e ho creato il mio primo corso. Lo potete trovare sulla piattaforma Udemy, che è una piattaforma assolutamente sicura, in cui io stessa seguo dei corsi. Ed è un corso completo a 360 gradi. È un piccolo ecosistema in cui potete trovare delle lezioni brevi, ma concise ed efficaci. Ho messo a disposizione anche dei contenuti scaricabili, quindi dei materiali che potete utilizzare come supporto al corso. E ho creato un gruppo Facebook dedicato solo agli studenti del mio corso bullet journal per principianti. Potete trovare il corso nelle schede e nella descrizione del video. Grazie per aver guardato il video, se vi è piaciuto lasciate un like per supportarmi e iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Grazie per la visione e alla prossima!